Presidente, torno a settembre e torno due appuntamenti che ormai sono tradizionali per la vostra società, il Memorial Jack Bellay e il Memorial Vittorino Caiti. Sì, abbiamo il piacere di riconfermare anche quest'anno questi due tornei a cui noi ci teniamo molto perché sono i nostri pilastri della società quando il Jack era il presidente della società Acro San Francesco che poi dopo purtroppo è scomparso e del nostro mitico custode Vittorino Caiti che ci ha dato la vita per questa società, per questo campo sportivo. Quindi abbiamo il piacere di riconfermare ancora il torneo quest'anno 2023. Tornei improntati sull'attenzione al settore giovanile perché entrambi sono dedicati ai più piccoli. Il torneo del Jack Bellay è per la categoria 2014, sono otto squadre, dalla zona ma anche di Bologna e della Romagna. Il torneo invece di Caiti sono il 2015, anche lì con le squadre della Romagna e anche della zona di Modena e di Bologna. E in particolare per il Memorial Jack Bellay, quello di quest'anno è un'edizione particolare, la decima? Sì, è la decima edizione, ci ha lasciato dieci anni fa, quindi per noi è importante ricordarlo sempre di più. Avremo anche il piacere di avere tutta la famiglia completa per la premiazione e per tutti i ragazzi così e ci teniamo particolarmente in quest'anno a ricordarlo. Poi c'è lo sforzo organizzativo particolarmente significativo per voi perché partono anche i campionati questo weekend. Sì, questo weekend iniziano tutti i campionati della federazione e il centro sportivo Vittorino inizierà un pochino più avanti con il settore giovanile di più piccolini e abbiamo quest'anno la fortuna di avere sei squadre iscritte in federazione a partire dai giovanissimi, dagli esordienti giovanissimi, allievi e anche i juniors. Quest'anno è la novità, abbiamo la squadra juniors che abbiamo formato quest'anno assieme agli Eagles e quindi con la fortuna di aver fatto questa fusione Eagles-Virtus Ancora abbiamo proprio la filiera completa delle squadre.